E' illegittimo il decreto di trasferimento del cittadino iracheno in Grecia, quale Stato competente ad esaminare la richiesta di protezione internazionale. Anziché considerare la Grecia uno Stato sicuro, contrariamente a quanto emerge dalle notorie informazioni sovranazionali, l'Unità Dublino avrebbe dovuto fare ricorso alla clausola di sovranità di cui è l'articolo 3.2 del Regolamento CE 343 del 2003, dichiarandosi competente ad esaminare la richiesta del ricorrente. L'adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo.